ciao a tutti e benvenuti ad una nuova videoricetta come vedete oggi non sono nella solita cucina ma sono nella mia cucina italiana perché io e dimetri siamo venuti qua in vacanza in italia per qualche settimana oggi volevo mostrarvi come preparare una torta al cacao con delle pere messe proprio intere è una torta molto autunnale barra invernale ed è gustosissima e quindi mettiamoci al lavoro e vi faccio vedere come l'ho preparata poi innanzitutto sbucciare le pere lasciando il picciolo porta ad ebollizione l'acqua e lo zucchero e lascio le pere in ammollo per circa 15 minuti dopodiché le vado a sgocciolare e le metto da parte vado poi a mettere il burro ammorbidito in una ciotola con lo zucchero e li vado a sbattere insieme dopodiché vado ad aggiungere lo cioccolato fuso che io in questo caso ho fuso nel microonde e vado a mescolare bene dopodiché vado ad aggiungere un uovo alla volta e poi la farina con il lievito vado poi a tagliare una pera a pezzettini e metto anch'essa nell'impasto dopo aver imburrato la teglia vado a versare giusto un pochino di impasto vado a disporre le pere in verticale e vado poi a mettere il resto dell'impasto in forno tutto a forno preriscaldato A presto! Grazie.